59.7 miliardi di dollari è l'incasso di Amazon del primo trimestre 2019. In questa puntata andiamo a vedere in quali settori Amazon lavora e da dove arrivano questi soldi. Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Ciao a tutti, sono Emilio Lodigiani e benvenuti a Strategia e-commerce. Allora dicevamo 59.7 miliardi di dollari, quindi quasi 60 miliardi di dollari sono l'incasso di Amazon del primo trimestre 2019. Parliamo di gennaio, febbraio e marzo 2019, dove 60 miliardi per tre mesi è circa 20 miliardi di dollari al mese. Non poco, è una delle società, come sappiamo, che fattura di più al mondo. Ora, nel mondo dell'e-commerce, che è nostro, nel settore e-commerce, non possiamo che tenere presente che Amazon esiste e relazionarci con Amazon. Chiunque abbia un negozio online, in un momento o nell'altro usa Amazon come metodo di paragone delle proprie attività, delle proprie strategie. Poi, come consumatori, oggi quasi tutti conosciamo Amazon. Io compro su Amazon tutto ciò che mi serve, praticamente, e molte persone hanno l'applicazione Amazon installata nel telefono e facilmente la utilizzano. E questo in Italia, che è uno dei mercati non tanto sviluppati per Amazon, come vedremo appunto dai numeri. Questi 60 miliardi, quindi, da dove arrivano? Allora, iniziamo subito a dividere due settori principali. Uno sono le vendite, ciò che riguarda l'e-commerce, sostanzialmente, Amazon. E un conto, invece, l'altra parte, sono i servizi informatici. Perché Amazon non è solo un negozio, ma affitta l'infrastruttura informatica che, a suo tempo, ha costruito perché serviva a lui stesso. Quindi, noi, ad esempio, la mia agenzia, ha diversi server ospitati da Amazon. Quindi, Amazon offre anche servizi informatici, come anche Google e tante altre società. Ora, per quanto riguarda, appunto, i 60 miliardi, 35,8 sono l'incasso di negozi di e-commerce a Nord America. 16,2 è l'e-commerce internazionale. Quindi, diciamo, il 60% dell'incasso totale viene dal Nord America, come e-commerce. Il 27%, quindi poco meno della metà, è e-commerce sempre internazionale. Ora, e questi due insieme, quindi sono il 60 più il 27, sono quasi il 90, l'87%, ok? Dov'è il restante 13? Il restante 13 è quello che vi dicevo, è la quota cosiddetta AWS, in inglese AWS, che è la quota di informatica. Cioè, sostanzialmente, Amazon ha questo servizio dove noleggia infrastrutture, band, eccetera. Vi faccio un esempio. Netflix, che è una società nota ai più, e è una società di noleggio video, sostanzialmente. Ti permette di abbonare un abbonamento. Con questo abbonamento tu puoi vedere tutti i video che vuoi. Netflix aveva una sua infrastruttura di server, di memorie, per contenere e trasmettere questi video. Ma recentemente, un anno o due fa, ha chiuso la propria infrastruttura e tutto lo tiene su Amazon. Quindi Amazon è un fornitore di Netflix, in quanto Amazon contiene poi effettivamente, nei propri server, tutti i film e tutti i sistemi che fanno funzionare Netflix. E così via. Ci sono tantissime società che utilizzano Amazon come appoggio per servizi informatici. Quindi ecco da dove viene questo 13% del fatturato di Amazon, che è quindi la quota di AWS e AWS. Peraltro, questa quota è in forte crescita, molto più dell'e-commerce. Perché rispetto all'anno scorso, sempre riferito al primo trimestre, AWS, cioè l'informatica, ha fatturato più 41%. Quindi quasi una volta e mezzo quello che fatturava l'anno scorso. Mentre le vendite, le vendite come e-commerce, in Nord America hanno fatto più 17%. E in quelle, la quota internazionale, quindi tutto il resto del mondo, ha fatto più 9%. Quindi nemmeno una crescita a due cifre. Quindi sostanzialmente interessante la questione AWS. All'interno delle vendite poi, ci sono due cose, date nel presente, due settori, che sono quelli che crescono di più. Quali sono? Uno è la settore degli abbonamenti. Quindi gli abbonamenti, ad esempio Amazon Prime, ma anche servizi ad abbonamento che vengono acquistati, Amazon propone, fatti recapitare questa cosa ad abbonamento. Quelli hanno fatturato rispetto all'anno scorso il più 40%. Quindi, insomma, un incremento molto importante. Sono passati a 4.3 miliardi di dollari. Solo loro costituiscono il 7% del fatturato totale della società. Poi l'altro settore curioso è la pubblicità, o meglio, loro lo chiamano altro, la voce altro. Poi i vari analisti dicono che la voce altro racchiude, ad esempio, gli entroiti pubblicitari, perché non sono esposti altrove, quindi devono per forza essere lì dentro. E che pubblicità è? Amazon, se tu vendi qualcosa su Amazon, lui ti propone di pagare, pubblicizzare il tuo prodotto. Così le persone cliccheranno la pubblicità. Quindi sapete che una volta all'interno delle schede, delle pagine prodotto di Amazon, c'erano prodotti correlati. Ora si tratta di prodotti sponsorizzati relativi all'articolo che stai vedendo. Oltre ad altri tipi di pubblicità in giro per il sito. Quindi questa pubblicità è il 4,5% del fatturato totale. Sono 2,7 miliardi di dollari l'incasso pubblicitario. E rispetto all'anno scorso è cresciuto del 34%. Bene, qui siamo pieni di numeri, ci siamo ripeti di numeri e la cosa può essere un po' fumosa con tutti questi numeri. Allora cerchiamo di fare un ragionamento, cerchiamo di capire un po' che cosa significano questi numeri per noi. Beh, allora intanto Amazon è un colosso, è una delle grosse società al momento insieme a Google, Facebook, Apple e pochi altri a detenere una posizione dominante nel suo mercato e una penetrazione molto grossa nel mondo occidentale. Il suo competitor principale è Alibaba, come sapete. Quindi il mondo orientale invece è più o meno detenuto da Alibaba, che però entrambi cercano un po' di entrare nella sfera dell'altro. Quindi questa è una società molto grossa e lo dimostrano questi numeri, perché parliamo proprio di 60 miliardi, parliamo del fatto che negli Stati Uniti è l'e-commerce principale in assoluto, insomma, sono numeri molto grossi. Ora, cosa vuol dire però? Che c'è una crescita, c'è una crescita molto importante e stranamente la crescita in Nord America è maggiore come fatturato di quella in Europa, perché Nord America più 17, Europa è compresa nell'internazionale più 9. Poi andrebbe visto, andrebbe visto in effetti, ma non abbiamo il dato, quanto è la crescita in Europa e non solo quella internazionale, perché qua, per esempio, abbiamo proprio davanti il bilancio, lo trovate sul sito di Amazon, nella comunicati stampa, e mi dice solo international, non abbiamo un Nord America e un international, non c'è lo spaccato dell'Europa. Quindi è chiaro che se in Burundi c'è poca crescita, questo non ci interessa, vogliamo sapere in Europa, però in generale, diciamo, il resto del mondo è la parte meno sviluppata, è la parte dove c'è meno la presenza di Amazon, e quindi tu diresti, ok, lì si può sviluppare di più, invece il contrario, cresce dove ha già una posizione dominante. Questo in qualche modo dimostra il fatto che queste aziende, quando riescono ad acquisire una posizione dominante, la cavalcano e lì fanno leva. Quindi Amazon in Nord America è il negozio più grosso, sostanzialmente, e fa il più 17% in un anno. Nel resto del mondo, invece, ha concorrenze, non è così posizionato e fa solo il più 9%. Quindi, attenzione, innanzitutto un allarme, qui c'è un negozio dominante, una società dominante, che in qualche modo fa leva sulla propria posizione dominante. Non dico che ne abusi, ma sicuramente una volta preso non esce più. Quindi questa è la prova. Secondo, evidentemente il resto del mondo ancora non ha la stessa mentalità del nord americano, quindi chiaramente Amazon ha meno modo di attaccarsi e quindi di aumentare le vendite. Poi, il discorso della WS è interessante perché è più 41%, è il settore che più cresce in Amazon. Quindi, sostanzialmente, in questa economia di servizi, loro che appunto noleggiano server, vendono servizi informatici, insomma, fanno 7.7 miliardi da questa cosa in tre mesi. Quindi sicuramente è interessante. Io vedo in quel settore una grande competizione che però si sta spostando sempre di più sui big. Quindi se una volta il server io potevo tenerlo anche nell'aziendina di Milano, oggi è diventato molto difficile. Quindi ci sono, diciamo, non so, forse 50 data center al mondo in cui metti il server, mentre un tempo erano 5 milioni i data center. Quindi, diciamo, questo è un altro momento di accentramento. Cioè, Amazon alla fine guadagna dove riesce ad accentrare su di sé tutto quanto. Quindi lo fa in Nord America come negozio, lo fa nell'informatica con AWS. Insomma, questo è un po' quanto. Gli abbonamenti, beh, c'è il tema degli abbonamenti è sempre stato forte. Quindi anche qui più 40, bravo, perché chiaramente l'abbonamento costituisce un'entrata ricorrente prevedibile ed è qualcosa che tutti desiderano. Essere riuscito a incrementare così tanto i propri incassi di abbonamenti è molto positivo. Fino all'anno scorso avevo letto un report dove Amazon comunque non riusciva col Prime a coprire le spese di spedizione date dal Prime. E quindi era ancora una situazione, diciamo, promozionale questa del Prime. Adesso vedremo cosa succederà. Comunque sicuramente, beh, adesso non ho guardato le spese di spedizione totali, saranno senz'altro molto alte. Però comunque più 40% vuol dire che c'è una crescita degli abbonamenti molto maggiore di quella che è la crescita delle vendite. Quindi vuol dire che molti più incassi, anziché andare nella vendita dei semplici prodotti, va nel pagare un abbonamento. Se le crescite crescono del 17 più 9 in media, quindi sarà 15-13%, crescono del 40 gli abbonamenti. Quindi vuol dire che gli abbonamenti in proporzione stanno aumentando. E questo è un insegnamento importante per tutti quanti, perché poi, dopo tutto, nell'economia di servizio che si sta creando oggi, io voglio abbonamento, voglio vendere abbonamenti. Quindi, diciamo, anche un e-commerce, qualsiasi, se può, dovrebbe vendere un abbonamento, a mio avviso. Cioè, se può, naturalmente. E non per forza un Prime. Potrebbe anche essere un servizio ricorrente. Cioè, se vendo una merce che si consuma, che è un consumabile, io propongo, ad esempio, al cliente, guarda, ti faccio uno sconto, ma sottoscrivi qui e te la spedirò, ti faccio una spedizione ogni tre mesi. Per esempio, questa è già una forma di abbonamento e porta senz'altro valore a un e-commerce. Beh, sulla pubblicità non faccio commenti, perché poi, sì, è vero, cresce il 34% e qualcuno si lamenta di questa pubblicità all'interno dell'Amazon, anche dove tu paghi, poi appena hai pagato, comunque lui sta già facendo la pubblicità di un altro sulla tua scheda prodotto. Insomma, però questo vedremo. Questo sono curioso di capire che cosa succederà nel prossimo futuro, proprio riguardo alla pubblicità. Comunque, ci siamo fatti un'idea di questo colosso che ha fatturato in tre mesi 60 miliardi di dollari e appunto ne ha fatturati circa il 87% in vendite, prevalentemente in Nord America, il 13% in servizi informatici e abbiamo visto poi tutto quanto. Va bene, allora dopo, questa è una puntata un po' di numeri, un po' così, di ragionamenti, diciamo, economici, nei limiti delle mie conoscenze, però appunto ho voluto farla perché bisogna essere informati anche su queste cose. Amazon, dopo tutto, è un player molto importante ed è un riferimento nel mondo dell'e-commerce. Questa è strategia e-commerce, quindi se non parliamo di Amazon, di chi possiamo parlare? Va bene, allora io spero che vi sia piaciuta questa riflessione su questi numeri. Quindi vi invito, mi farebbe piacere, se sarebbe utile per la trasmissione, se volete nel vostro player di podcast dare le stelline, quindi 5 stelle, se si può, la stellina alla trasmissione e se anche volete fare un commento, una recensione o quant'altro.